Perdonatemi l'intrusione Tranquillo, però siate veloce Volete essere mia moglie? Sono serissimo Immagino quanto vi possa sembrare strano che una persona si avvicini al vostro tavolo Ditemi subito qualcosa di voi, svelto Beh, sono capitano di una nave La mia altezza è eccessiva Sì, vedo quanto siete alto Quando ci sposiamo? Domani? Meglio tra una settimana, direi che è più realistico